Dire che queste sono delle brutture che non devono più accadere. Stiamo lavorando, stiamo lavorando con determinazione anche con gli altri ministeri, in modo particolare con la Ministra degli Interni e la Ministra del Lavoro. Abbiamo riattivato il tavolo per dire che bisogna non solo contrastare il caporalato con la repressione che deve accadere, ma dobbiamo contrastarlo anche dando tutti gli strumenti per riportare nella legalità il lavoro agricolo. Perché c'è tanto lavoro agricolo che ogni giorno rispetta i diritti delle persone, ci sono aziende che competono nel rispetto di tutte le regole e ci sono dei delinquenti che mettono in discussione il lavoro degli altri. Allora noi stiamo lavorando per agire su tre fronti. Uno, che le imprese che vogliono stare nella regolarità possono liberarsi dal caporalato andando su una piattaforma che stiamo attrezzando, dove possono andare stasera e trovare la mano d'opera per domani mattina. Quindi l'incrocio, domanda, offerta di lavoro. Il secondo punto sul quale stiamo lavorando è quello di attrezzare la rete dei trasporti. Non basta che le regioni dicono che mettono a disposizione le risorse. Bisogna lavorare per attrezzare un piano reale di trasporti che deve vedere coinvolte le amministrazioni regionali, ma deve vedere coinvolte i sindaci e le associazioni imprenditoriali perché insieme si può attrezzare questo lavoro. Il terzo punto è che gli immigrati sono persone che spesso aiutano le imprese a non lasciare i campi incolti e i prodotti a marcire nei campi. Allora queste persone devono essere diritti, devono avere i loro diritti mentre stanno nel mondo del lavoro, quando stanno nelle imprese, e devono essere i cittadini quando escono dalle imprese perché spesso queste persone vengono lasciate nell'abbandono e non hanno un luogo dove andare a dormire, un luogo dove poter vivere civilmente la loro esistenza. Su questo stiamo lavorando. Presto faremo una missione con la Ministra degli Interni proprio in questa provincia perché noi riteniamo che qui ci sono le condizioni, abbiamo individuato tre territori a livello nazionale dove vogliamo sperimentare il programma di contrasto al caporalato che si sta definendo in questi giorni e da gennaio parte. Oggi sono qui non solo per l'avvicinanza al sindaco che ha voluto avermi in questo incontro, ma a queste imprese e insieme al sindaco e a tutti i sindaci della zona noi dobbiamo dire con molta chiarezza che questi sono dei delinquenti criminali che vogliono macchiare un territorio che ha invece tanta competenza, tanta sapienza e tanta voglia di farcela. Ci sono imprese che con mille difficoltà del mercato interno e di quello estero cercano di competere e di dare prodotti di altissima qualità che fanno grande la dieta mediterranea e non permetteremo a questi criminali di macchiare un territorio con i loro comportamenti inqualificabili. Come giudica la politica regionale pugliese? In che senso? Come giudica l'operato della regione e sull'agricoltura? Sull'agricoltura ci sono delle criticità, come è stato detto, io da varie settimane ho dato la disponibilità anche nei tavoli che ho convocato con tutti gli assessori dell'agricoltura a livello nazionale, ho dato la disponibilità soprattutto alle regioni che hanno maggiori difficoltà nell'applicazione dei PSR per dire non permettete di far tornare indietro le risorse in Europa perché noi stiamo combattendo perché dall'Europa non vengono fatti tagli al bilancio comunitario e ancora meno alla politica comunitaria sull'agricoltura. Sulla base di questo quello che può fare il Ministero è dire alle regioni, a partire dalla regione Puglia, gli uffici del Ministero sono a vostra disposizione, sappiatele utilizzare e recuperate i ritardi che evidentemente ci sono. Grazie, grazie a voi.